Mi chiamo Eleana, ho 23 anni e faccio l'attrice. Ora mi fingerò Valeria, una 17 anni, alla ricerca di un counselor. Salve, io mi chiamo Valeria. Sì, 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 ho 17 anni. Sono un po' in un momento di confusione in realtà. Avevo voglia di capire un attimo con qualcuno. Ok, e sapere, io vi ricordo che tu sei minorete. I miei genitori sono separati, quindi è un po' una situazione così, non sanno che l'ho chiamata. Loro potrebbero, diciamo, scrivere qualcosa, nel senso che io dovrei stare tranquilla che loro sono d'accordo. Questo non ci avevo pensato, quindi non lo so. Va bene, anche a voce, nel senso che se tu sai che per loro non c'è nulla in contrario, che tu faccia un percorso, va bene. La counselor ha capito e sa qual è la procedura, cioè lei deve ottenere l'autorizzazione. In questo caso la ragazza sta dicendo che lei non ce l'ha e lei gli dice, vabbè, ma vediamoci lo stesso, sostanzialmente. Va bene anche a voce, come dire, lei potrebbe mentire, Ileana, no? Dicendo che i genitori hanno detto di sì. Certo, è assolutamente a rischio. Che sesso? Il mio ragazzo è molto geloso. Ad agosto io e le mie amiche stavamo a un bar. Io non rispondevo al cellulare e allora lui è arrivato e si è particolarmente incazzato. Mi ha strattonato, mi ha portato fuori dal bar e ha cominciato a urlare. Quindi le sue reazioni sono un po' esagerate rispetto a quello che si dice? Sì, sono parecchio spropositate. E la tua relazione con lui adesso va bene? Sì, sì, va bene. Lei ha appena detto che lui l'ha strattonata, che l'ha portata fuori dal bar, quindi c'è un atto violento, violento anche fisicamente. E lei gli dice, tu come ti senti? La tua relazione come va? Va bene, no? Cioè gli dice lei, addirittura gli imbocca la risposta. Dovrebbe svolgere una funzione anche di dirgli, guarda che questa cosa che per te va bene è allarmante, molto più di quello che tu credi. Sembra che non abbia, come dire, focalizzato qual è il punto. Questo è un utilizzo di una tecnica un po' a casaccio. Cioè nel senso che il tema è che loro utilizzano tecniche senza avere una teoria. di fondo. Mi immaginavo due momenti in cui diventa geloso, si è prato, la pena ti è strattona. Come ti senti in quell'altro? Ma mi sento ferita. Volevo parlare pure con qualcuno per capire se mi serve una mano effettivamente. Cioè non so. Lei sta lì, ha una minore, non ha il consenso informato dei genitori, tratta un tema che è un tema di tipo sanitario, e che quindi devono trattare medici, psicologi, psichiatri e quant'altro. Lei di fronte a questo ritorna su, come dire, una cosa che evidentemente le hanno insegnato, che è quella di non dare risposte ma di riproporre e di richiedere all'altro come si sente, come la fa sentire, eccetera. Come a rimbalzare la palla, no? In qualche modo. Esatto, sì, lo rimanda su di lei, ma ci troviamo in una situazione diversa da quella che immagina lei, se ne immagina uno. Come se fosse lo stesso canovaccio. Esatto. A prescindere dalla cosa che ti sto dicendo. Esatto. Questo è grave. Ogni volta che lui mi chiede scusa io lo perdono, perché non c'è, c'è nel senso, perché alza la voce, che mi strattona. Potresti parlarci e cercare di dire di questa cosa qui. Parla con lui, ma come parla con lui? In una situazione in cui c'è una vittima, tu la devi allontanare. Anche perché poi da quello che sta dicendo Eleana è chiara, come dire, la sottomissione, la sudditanza che ha nei confronti del ragazzo. Eh sì, cioè ci sono tutti gli elementi che proprio hanno a che fare con un classico caso di relazione violenta. Mi sono sentita in colpa quando ho mentito a mia madre. avevo un piccolo livido sulla faccia. Gli ho detto che mi ero fatta una cosa a scuola. Dal ceffone, perché c'ha l'anello. Lei cosa pensa? Mi dispiace. Mi dispiace. Cioè, come se stessi, non so, alla fermata dell'autobus uno mi racconta una cosa e io che gli posso dire? Mi dispiace. Pat, pat, pacca sulla spalla. E la cosa finisce così. Ma tu sei un professionista, non mi puoi rispondere mi dispiace. Cioè, tu mi devi dire, io non sono la persona adatta perché io non posso affrontare questo tipo di tematiche. Devi rivolgerti a qualcuno che sia in grado. Noi ci dobbiamo fermare. Possiamo lavorare su queste cose. Sì, io l'ho detto a mamma che stavo qua. Sì, sì. Sì, ma... Counselor, a cui ho raccontato di avere un serio problema alimentario. Avendo 17 anni ancora devo, insomma, parlare con i miei genitori. Però non mi andava di condividere questa cosa. La domanda è, qual è l'obiettivo che Valeria vuole dare a vedere di lasciare andare, scoprire, svelare. Lei dichiara subito che è minorenne, che i genitori non sanno che lei è lì e lui ignora totalmente questa cosa. Un professionista direbbe, beh, questo però è un problema perché tu non puoi venire qui senza che i tuoi genitori lo sappiano, senza che tu sia autorizzata da loro al trattamento. Sto cominciando a riprendere una cosa che facevo anni fa. A 13-14 anni ho avuto un problema di aneuristia e sono stata ricoverata in una clinica. E ti ha aiutato a uscire da questa cosa che avevi creato, da non smettere di rifiutare. Di psicologi? Di psicologi ma anche tutto il percorso che hai fatto nel tuo periodo. Sì, cioè nel senso è stata una cosa che ho superato, sono riuscita a superare. E tu hai superato? Sì. Valeria, è importante questo? Sei tu che la rivolta. Di fronte al fatto che una persona ti dice che ha avuto una storia clinica pesante perché è finita in una struttura, ha avuto un problema di aneuristia eccetera, il tuo, come dire, intervento più importante è quello di andargli a dire che lei si autodetermina e che quindi in realtà lei ha il potere di decidere, non sono gli altri, gli psicologi o chi la aiuta. Lui avrebbe dovuto interrompere e dire, guarda io non sono in grado di affrontare questo tipo di problematiche perché questo è un problema evidentemente legato alla condotta alimentare, a un disturbo alimentare e quant'altro e non lo posso trattare. Ho ricominciato a vomitare, sento di non riuscire a fidarmi di me stessa e questa è una cosa. Per quale motivo mi dovesti a presto di città? Perché non riesco a controllare questa cosa. Ti senti più grossa di quello che vorresti? Sì, non mi sento nettamente più grossa di quello che... E come vomitare? Beh, a me non mi fa sentire in colpa. Di fronte al fatto che lei dice, io mi abbuffo, poi vomito, mi vedo più grossa di quello che sono, lui gli chiede com'è vomitare. Cioè che è un tipo di domanda assolutamente fuori luogo, non è un intervento professionale. Cosa non ti piace di te? Il mio fisico, non mi piace per niente. Ci sono soluzioni, uno per esempio potrebbe andare in palestra. Questa è proprio l'apoteosi, cioè lui individua una soluzione a un problema complesso che lei sta portando a una soluzione di una semplicità disarmante. Andare in palestra è la soluzione, cioè il pensiero semplice portato alle estreme conseguenze. E adesso arriva il bello perché dice, anch'io ho la pancia, no? Io so un po' di pancia, ci sono volte dove, come te, mi mangio una mela, un paio di alance e mi sento gay, altre volte ti apre il frigo e lo aggierai anche lo strumento. Utilizza anche qui una tecnica che è quella di far sentire la vicinanza in una situazione in cui non si usa mai. Perché di fronte al fatto che questa ragazza ha un evidente e conclamato disturbo della condotta alimentare, ragioni con una logica che è stringente di fronte a una logica della psiche che lei ti sta portando, che invece è molto più articolata e molto più complesso. Quello che viene chiamato credo disturbo di alimentazione, una cosa di questo genere, per me è abbastanza chiaro. Qui lui individua il tema, quindi non si può dire che lui non si è reso conto perché non è capace a fare la diagnosi, cioè lui gli dà proprio un nome, lo chiama disturbo alimentare. A questo punto lui deve fare un passo indietro, cioè si deve fermare e gli deve dire, guarda io ho capito, prima non l'avevo capito, ci ho messo un po', adesso l'ho capito. Io mi devo tirare indietro. Io non sono il professionista per te, tu devi andare dai professionisti che ti hanno curato prima, infatti tu hai detto che prima l'hai risolto e non l'hai risolto con un counselor, l'hai risolto rivolgendoti a una struttura. Questo è un tema sanitario e ti devi pure sbrigare a mandarcela perché questa è un'occasione, nel senso che lei sta chiedendo aiuto, non è detto che ricapiti. Tu puoi cominciare a prestare attenzione a una valeria che dice, è perché adesso sto facendo così? È giusto quello che dico o non è una mia idea? Ci sta quello che ti sto dicendo? Chiede a lei come va, come si è sentita con lui, insomma gli chiede come è andata la prestazione. Sono stato bravo. Sono stato bravo, fa un po' ridere. Il medico di te stessa sei tu e quello è il punto. Allora su questo piano possiamo vedere di fare qualche incontro assieme. Vediamo da qua qualche mese se entra qualcosa a cambiare e allora se funziona è viva. I miei incontri vengono 50 euro. In realtà questo è un'avventura che però lui fa sulla pelle di lei. Perché questo è un caso urgente. È grave ed è urgente intervenire. E invece lui questa urgenza non la vede. E dice proviamo, ci vediamo. E ci proviamo, tanto poi se va male è un problema tuo. Intanto i miei incontri costano 50 euro. Ora invece sto andando ad incontrare un altro counselor al quale ho raccontato di abusare di sostanze stupefacenti. I miei genitori non lo sanno che sono qua, perché insomma ho 17 anni. Mi andava che fosse una cosa mia. Sono un po' preoccupata per una mia amica. Perché quest'estate abbiamo provato la cocaina. E il sabato sera quando usciamo insieme, insomma ci facciamo. E ci facciamo cosa intendi? Che prendiamo un autostrisce, insomma. Cocaina? Sì, sì, sì. Mi sembra che lei stia un po' esagerando. Spesso nei casi di abuso di sostanze, soprattutto quando i ragazzi sono così giovani, lo portano riferito a qualcun altro. In questo caso lei sta dicendo che il problema è la sua amica. In realtà sta parlando anche di sé. Questa è una cosa molto dedicata, questa qua. È una cosa su cui fare attenzione. Esatto, il primo a fare attenzione dovrebbe essere lui. L'abuso di sostanze va trattato da professionisti. Clinicamente, da professionisti sanitari, quindi medici, psichiatri, psicologi. Quindi che puoi aiutare? Possiamo fare qualcosa, se lo vediamo un po'. E lui dice, certo che ti posso aiutare. No, è certo che no, che non ti posso aiutare, perché non è un caso che tu puoi trattare. Ti va a fare rappresentare sulla carta quei colori, come sei tu in questo momento. E di questo disegno cosa mi vuol dire, cosa rappresenta? Io odoro i fiori. Però nascono dalla terra. E la terra è una cosa molto sporca. Se tu dovresti collocare in un punto preciso di là, dovresti di colorirti. Un po' tra la terra e il fiore più grande. Sì. Significativo. Lui sta utilizzando anche in questo caso una tecnica a casaccio. Cioè, in genere si utilizza con i bambini. Ti faccio fare un disegno. Dopodiché lui dice, è significativo. Ma anche qui, ma significativo all'interno di quale tipo di modello teorico. Ti faccio fare una cosa così e a te ti sembra che hai fatto qualche cosa, hai parlato di te. Cioè, non la sai poi utilizzare, non la sai poi analizzare. Tra l'altro, ma stai utilizzando la tecnica corretta con una persona che ti sta parlando di un problema di abuso di sostanze? Questa terra dove sta adesso? Questa voluità, mi chiamavano? Sì. Tu voluiti? Dove sta? Non ha fatto il corpo? Qua. A mezzo. A mezzo. Ad ansia, non venite? Sì, un pochino. Mischia dei livelli che sono il disegno, il corpo, il colloquio. Cioè, mette tutto insieme, un po' come capita. Un po' orriti tecniche. Sì, buttate lì così. Il clinico, quando le utilizza, sa dove sta andando, che cosa si aspetta che succeda, verifica se quello che si aspetta sta funzionando o meno e poi, come dire, procede. Non so quanto si conosce la materia di sostanze. Prima che mi stai scelto, mi diverto. Dopo un po' di tanto, per divertirmi me ne servono 4, per l'altro po' mi servono 10. Dopo un altro po' e devo prendere 20 perché se no sto male. pure i cani, se c'è da casa un po', per inizio di giri, si convolgo con la cosa che serve bene. Io stesso le conosco, la so trovato, la pagina, 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 la pagina. Ma è una cosa che si può fare, non ti preoccupare. Il motivo per cui lui lo fa è un altro. Lui cerca di fare questa operazione per fargli vedere che stanno sullo stesso piano. Ma quello è un piano pericoloso. Lo che mi premio è che tu sappia questo. Che cominci a pensare a queste sostanze, forse è il meglio. Se posso evitare è meglio. Grazie, è evidente. Se no non stavo qua, se lo potevo evitare, sto qua perché ho un problema. Se mi dici così, ma che professionista è? Sto a fare un po' rivedermi nel tuo macchino. Sì, un po'. Senti, ti posso in qualche modo aiutare a ascoltare? Sì, sì, a voglia. Alla fine di tutti questi tre colloqui, che idea si è fatta lei? Tutti utilizzano tecniche di natura psicologica prevalentemente, ma senza una teoria di riferimento. E questo si vede, cioè tecnicamente si vede che gli interventi che vengono fatti sono interventi privi di senso, di significato. E quindi non sono atti professionali. Se la situazione in ambito privato è questa che vi abbiamo mostrato, è allarmante il fatto che nella scuola pubblica i counselor vengano autorizzati dai dirigenti scolastici ad attivare sportelli di ascolto spesso pagati con le risorse della scuola. O che addirittura facciano osservazione sul campo, rilasciando diagnosi di tipo clinico. Agli sportelli di ascolto si rivolgono studenti con problemi di carattere prevalentemente psicologico, aspettandosi di trovare uno psicologo. A volte è così, ma altre volte no. Cosa è successo a sua figlia? La mia figlia aveva subito atti di bullismo e saperbullismo che man mano, insomma, crescevano alla loro importanza. Tutte queste cose la avevano portata a chiedere aiuto a questo sportello amico. All'interno della scuola? All'interno della scuola. Mi parlò da subito di una ragazza molto giovane che la seguiva. Io chiesi a Giulia di poter parlare con questa persona. E che persona si è trovata davanti? Da subito mi sono trovata in una situazione veramente molto imbarazzante, perché la persona in questione era una ragazza che avrà avuto, non credo neanche, arrivasse a 23 anni. Non so, sembrava come se Giulia parlasse con un'amica, ma l'amica meno indicata a dare consigli. Questa persona era una counselor? Sì, io poi in quella situazione chiesi proprio specificatamente se lei fosse laureata o meno, disse assolutamente di no. Da lì, insomma, io sono uscita da quella situazione dove ho detto a mia figlia, ho detto, tu non andrai più da questa persona, ma mia figlia era consapevole lei stessa. Lei ritiene che questa persona possa in qualche modo aver fatto dei danni a sua figlia? Beh, sicuramente, insomma, in quella situazione sì, dal momento in cui una persona già fragile cerca di avere gli strumenti per uscire da una situazione di fragilità e non gli vengono dati in una maniera più assoluta, è una fragilità che aumenta.